Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Arturo Balostro, sono un librario della Mondadori di Bologna. Vi rubo solo due minuti perché mi faceva piacere darvi il benvenuto, però poi lascerò la presentazione a Roberta Parrella e soprattutto ne volevo profittare per ringraziare Stefania Ucci. Stefania è una cara amica, oltre ad essere una scrittrice bravissima che tutti voi conoscete ed è un grande piacere rieverla qui, per la seconda volta scelto noi ne siamo particolarmente felici e ringraziamo anche Sala Borsa che ci ospita sempre con grande piacere. Io non vi rubo altro tempo, anche perché so che quello che racconta Stefania è sempre molto interessante, non le farò i soliti scherzetti che faccio durante le presentazioni, quindi è in buone mani stasera. Vi lascio alla presentazione, buone parole a tutti. Bene, grazie di essere qui in questa giornata calda e con mille sicuramente attrazioni esterne che è. Grazie a Stefania per essere tornata qui a Bologna, che è anche mia città ospite, io non sono bolognese per cui vivo in questa città da alcuni anni, che mi ha accolta, come la Sicilia ha accolto i Florio a suo tempo e devo dire che è stata una bella accoglienza. Adesso poi magari stasera vediamo se piano piano con Stefania capiamo se anche i Florio si sono poi alla fine sentiti veramente accolti in Sicilia. L'inverno dei leoni, questa cosa che per tanti, un paio di anni abbiamo chiesto a Stefania quando faceva le presentazioni dei precedenti, quando uscirà, quando uscirà, adesso che l'avete in mano, adesso non so quanti di voi l'hanno già letto, spero qualcuno, bene, e vi troverete davanti ad un libro che la prima cosa che io ho pensato è, visti tutti e due insieme, ho detto che lavoro, quanta roba c'è qua dentro. Ma prima di arrivare a questo voglio fare un piccolo pezzettino di storia che è come io ho conosciuto Stefania, vi rubo pochissimo tempo, io e Stefania abbiamo una persona, stasera ho deciso che la parola d'ordine sarà persona, una persona in comune che abbiamo conosciuto attraverso il libro, tra le altre cose, la cosa che ci ha unito a noi tre sono i libri e questa persona molti anni fa mi dice, ah guarda io questa carissima amica sta scrivendo una cosa, è bellissima, è bellissima, è bellissima, bene, esce il libro, è il maggio del 2019, siamo al Salone del Libro di Torino, l'ultimo salone che abbiamo potuto fare in presenza e Stefania è lì perché il suo libro è uscito in quei giorni, quindi Arturo mi dice, ho detto la persona in comune, non potrò essere a Torino, non potrò essere a Torino però per favore vai da Stefania che è lì e dille questo, sì, te lo meriti. Io parto per Torino, arrivo il giorno in cui Stefania è lì alla presentazione, corro nel suo stand, mi faccio firmare l'autografo dicendo guarda io sono un'amica di Arturo e lui mi ha detto di dirti questo, te lo meriti e tu sai perché, Stefania si sbraccia e si commuove anche di questa cosa, tanto per cambiare. E io oggi dopo che ho finito di leggere anche il secondo volume di Stefania dico sì, quella cosa che Arturo mi ha detto di dirle nel maggio del 2019 è vera Stefania, sì, te lo meriti. Grazie a tutti e due. Stefania è partita con questo libro, io non ricordo sarà il 12, 6 maggio del 2019 quando è uscito, ne abbiamo parlato tantissimo, ne abbiamo sentito parlare e piano piano questa cosa è uscita dal mondo degli addetti ai lavori ed è arrivata a voi che siete i suoi lettori e voi avete portato in giro, c'è stato proprio un gran passaparola dei leoni e l'estate del 19 io ricordo ero in vacanza a Pescara e al mare si vedeva soltanto questo libro nelle mani di uomini e di donne perché non è un libro solo al femminile, questo è importante, ci sono molti lettori uomini anche che hanno amato questa saga. Quel libro lì è partito improvvisamente per più di un anno, abbiamo avuto il nome di Stefana Auci sempre in classifica nelle top ten ed è per me una cosa che a ricordo di un esordiente non si era mai visto, per cui sì, te lo meriti e diciamo che l'inverno dei leoni è partito con la stessa grinta e si è trascinato anche ovviamente il precedente che è nuovamente in classifica in coppia. Dicevo la mole di lavoro che c'è dietro questa saga che qui si conclude con questo libro è veramente tanta, le informazioni storiche che ci sono sono infinite, i dettagli che Stefania riesce a mettere all'interno delle sue descrizioni sono tantissimi, quindi è un po' forse una domanda che ti hanno già fatto ma quello che mi ha veramente stupito chiudendo l'ultima pagina è come ha fatto e dove ha preso tutte queste informazioni e soprattutto al di là dell'informazione storica anche tutto quello che era il dettaglio che componeva gli arredi delle case, il come loro si vestivano, le loro preferenze del come passavano il tempo, dove ha raccolto e come sei riuscita poi a renderli così agili nella lettura e piacevoli. Bene, innanzitutto grazie per voi coraggiosi che siete venuti perché mi rendo conto che insomma la giornata è un po' un pochino affosa e quindi già grazie per questo e poi grazie anche a Sala Borsa che per la seconda volta mi accoglie, mi ospita, sono molto contenta di questo di questo ritorno perché a parte la presenza cara e amata di Arturo che è veramente un amico, una colonna nella mia vita, al di là di tutto davvero per me è un bel ritorno, amo molto questa città, anche la mia famiglia l'ama per una serie di motivi quindi sono molto felice davvero di essere qui. Per rispondere alla tua domanda c'è stato un lavoro molto capillare, molto attento di approfondimento dei particolari e del dettaglio storico che ho messo insieme ma non è stato un lavoro singolo, nel senso che alle mie spalle ho avuto io due angeli custodi, uno che è qui e non vuole essere nominato ma lei sa perfettamente di chi sto parlando e la ringrazio per aver avuto la possibilità di fornirmi le pezze d'appoggio soprattutto del Corriere della Sera e per avermi ogni tanto inviato, anzi più di ogni tanto, a volte proprio mi trovava magari l'articolo, lo spunto, mi diceva guarda cosa ho trovato e poi puntualmente questi spunti di cui ne parlavamo finivano per diventare tessuto del romanzo e poi un'altra persona che è stato il mio consulente storico che mi ha invece dato delle notizie, delle pezze d'appoggio, dei riscontri su tutta una serie di passaggi perché effettivamente rispetto al primo volume qui c'è una maggiore dose di complessità che riguarda soprattutto il cucire, i dettagli, pensate un po' un libro come se si trattasse di una sorta di abito sartoriale, c'è la fase del disegno del cartamodello, c'è la fase del taglio della stoffa, della stoffa che vengono fatte le impunture, esatto, l'invastitura e quindi comincia un po' a capire come funziona, se cade bene, se devi tagliare, se devi accorciare, poi dopo che hai confezionato il vestito e quindi devi fare il lavoro di rifinitura inizia il vero lavoro complicato perché devi capire dove applicare il ricamo, dove mettere la paillette, che tipo di smerlo dare per esempio al colletto e così via, questo è il lavoro più complicato perché è vero, noti il decoro, ma il decoro lo noti perché ci deve essere alla base un bel abito, quindi tutto il lavoro di rifinitura era basato nel dare i punti giusti nel punto giusto, se mi permettete la similitudine sartoriale, quindi tantissimo, grosso, cospicuo, enorme il lavoro di ricerca e poi c'è stato proprio il lavoro di composizione del come riportare la lettera morta in un contesto vitale, in un contesto vivace, per fare un esempio, è stato per esempio particolarmente interessante e devo dire a suo modo anche straniante e straziante leggere il catalogo d'asta che riguardava i beni immobili soprattutto che erano stati messi all'asta alla fine della seconda guerra mondiale dopo la dismissione della casa di proprietà dei Florio. Questi oggetti che erano riportati nel catalogo sono finiti all'interno della vita della casa dell'Olivuzza, all'interno delle stanze dell'Olivuzza, per cui magari troverete citato il quadro di Solimena che io ho trovato e sapevo che c'era proprio perché l'avevo trovato nel catalogo d'asta o la stessa cosa, il paravento di seta rosa indiana, era uno degli oggetti messi all'asta, quindi davvero c'è una sorta di richiamare in vita e richiamare dal passato per la narrazione per poter attualizzare quello che la narrazione vuole raccontare, lusso, lo sfarzo e la verosimiglianza anche di quello che viene raccontato. Sì, i Florio lei ha citato adesso alcune delle proprietà che hanno posseduto, che si sono passate di generazione in generazione, che sono state faticosamente costruite, messe in piedi da i primi Florio che arrivano appunto a Palermo alla fine del 1700 e poi appunto c'è questa, in questo inverno dei leoni si vede, partiamo ancora, possiamo, non è uno spoiler perché chi ha letto il primo, il secondo parte diciamo con la fine del primo, questo magari lo possiamo dire, parte quindi con un momento luttuoso e da lì poi in realtà abbiamo il momento forse più splendido, muore Vincenzo, quindi Ignazio, suo figlio come Ignazio Senior, Regnazio, il senatore, prende a mano tutto, sposa questa donna e da lì incomincia il momento più vero, cioè io l'ho trovato questo uomo che al primo posto metteva Casa Florio, tu lo ripeti più volte questa cosa, per lui c'era la famiglia ma al primo posto c'era Casa Florio, Casa Florio voleva dire tenere in piedi tutte le loro proprietà, anzi crearne di nuove e soprattutto avere il contatto con i loro lavoranti. Ecco Ignazio mi ha ricordato un po' Olivetti, queste figure di uomini, di grandi imprenditori che pensano sì alla loro impresa ma pensano anche a chi lavora per loro, quindi cercano di dare soddisfazioni, cercano di essere sempre presenti, quindi c'è questa prima parte dove questa coppia, perché in fondo possiamo definirlo questo libro, ci sono due coppie importanti, Ignazio e Giovanna e poi Ignaziddu e Franca, che è Franca Florio. Nella prima parte, la prima coppia nonostante sia una coppia particolare dal punto di vista di quello che possiamo intendere noi, una coppia che si sposa, che mette su famiglia e abbiamo questa classifica proprio, prima Casa Florio e poi la famiglia e i figli. Poi però la vita è così, Ignazio muore e passa tutto ad Ignaziddu che forse era ancora troppo giovane. Io devo farti una confessione, io ho un personaggio che ho fatto fatica fino alla fine, proprio alla fine ho detto vabbè, ma a me è Ignaziddu. È un personaggio che... Un paio di 5 e 55 ben assentati, sì lo so, ma l'hanno detto in parecchi, ma l'effetto che volevo stendere era quello, quindi vuol dire che è andata bene. Sì perché una cosa che tu hai detto, che ti ho sentito dire, è che questo è un romanzo, ci tieni, è un romanzo storico ma è un romanzo e tu hai detto in una tua precedente intervista che la fantasia aiuta proprio a rendere più vera quella che è la realtà. Per cui questi Florio che arrivano, che creano e che poi se vuoi distruggono anche, sono delle persone, come dici tu, che quindi hanno fatto delle cose belle e anche delle cose poco belle. Quanto leggendo appunto i documenti storici tu hai poi deciso di dare, perché tu sei entrata, cioè quello che noi leggiamo qui sono i pensieri di questi personaggi, che sono pensieri di Stefania. Come Stefania ha fatto questo lavoro di entrare per poter far dire sì, Ignazio alla fine sì, era così, era sempre colpa degli altri? Forse questo è il vero lavoro che poi alla fine ti fa andare avanti quando scrivi, cioè la possibilità di entrare sia pure in punta di piedi nella vita degli altri. Questo ve lo presuppone da parte di chi scrive un enorme rispetto, perché tu comunque non sei loro, tu sei una persona differente, che vive in un tempo diverso, che ha una serie di eventi della tua vita che ti caratterizzano in maniera differente e soprattutto non hai né quelle responsabilità, né quel tipo di ricchezza, né tantomeno hai la possibilità di poter intuire fino in fondo cosa significa dover gestire un simile tipo di carico. Per cui il lavoro che mi è arrivato, un lavoro che ho portato avanti è stato soprattutto quello di immaginare che cosa potesse significare vivere con un simile carico di esperienza. E se per il senatore questo dopo un po' di difficoltà alla fine poi è scattato qualcosa, per cui sono riuscita a capirlo fino in fondo, per il mio ziggio è stato un lavoro quasi di scoperta più che di aggiunzione. Scoprire progressivamente che tipo di vissuto aveva questa persona, del come aveva approcciato e vissuto anche l'amarezza del trasformarsi in una personalità prima invidiata e poi invece compatita se non addirittura osteggiata. Quindi il lavoro sulle persone è stato proprio quello di intuire attraverso gli atti, attraverso la corrispondenza, attraverso delle testimonianze dell'epoca, come loro potessero, non soltanto come potessero comportarsi, ma che cosa c'era alla base di questo tipo di comportamento. Alla fine il comportamento è sempre la spia di una scelta, di un'azione, di una decisione, quindi capire e fare un lavoro, una sorta di ricostruzione al ritroso per riuscire a individuare i tratti salienti del carattere dei singoli. E devo dire che davvero il lavoro che ho portato avanti è stato capillare, è stato attento, ma è stato anche un lavoro di grande passo indietro, nel senso che per me era importante cancellare la mia voce per dare il più possibile lo spazio a queste personalità, per potersi esprimere, per poter essere effettivamente e realmente le persone che descrivevo. Non interessava, non era per me fondamentale raccontare attraverso la loro voce la mia storia. La mia storia è qualcosa che appartiene a me. Interessava che loro avessero la possibilità di riparlare in una determinata maniera di quello che si verificava. A questo punto la cosa fondante diventava restituire questa voce in termini di verosimiglianza e quindi ancora una volta un lavoro di studio del modo in cui potevano esprimersi, del tipo di emotività che portavano avanti, se da una parte per esempio il senatore è estremamente controllato, estremamente quasi freddo, quasi glaciale, dall'altra parte invece il figlio è proprio preda delle sue passioni e quindi fare una differenza che sembra stridente proprio perché c'è questa successione immediata, quasi, anzi non togliamo il quasi, proprio una successione repentina, ma era proprio una differenza caratteriale dettata, come hai detto tu stesso, dal fatto che anche lo stesso giovane Ignazio diventa proprietario di questo patrimonio a 21 anni e probabilmente non aveva fatto né esperienza umana né esperienza professionale per poter gestire con lungimiranza un simile quantitativo di soldi. Per lui questi soldi a disposizione significava posso fare quello che voglio. Per il padre invece a sua volta era diventato erede ma a 30 anni, quindi aveva affiancato il padre nel lavoro, a sua volta si era reso conto di quello che trattava, per lui questi soldi significavano veranzia di sicurezza per la casa commerciale, quindi questa è già una prima differenza e altre differenze molto marcate poi ci sono nel vissuto personale, nel vissuto familiare, però. Gli uomini e le donne, Florio. Leggendo, come ti ho confessato che uno dei personaggi che più mi stavano, mi sono stati, non ho digerito poco bene, era Ignaziddu. Il personaggio femminile invece che più mi ha colpito è Giulia, la sorella, che essendo femmina purtroppo ha dovuto seguire una sua strada e più andavo avanti, Giulia ha due o tre momenti nel libro in cui tu le dai, l'ho sentita come una boccata di respiro. Queste donne, siamo appunto in pieno ottocento in Sicilia, quindi non ci si può aspettare probabilmente molto di più, però sono donne che hanno una testa, che ragionano, che quindi riescono a vedere, forse più degli uomini, la differenza tra giusto, sbagliato, bene o male, poi sbagliano anche loro, ma ritorniamo sempre lì, siamo persone e facciamo anche gli errori. Ecco, in due momenti tu dai a Giulia la possibilità di creare, secondo me, di dare una boccata d'aria a questa cognata che si trovava in un momento molto particolare. La domanda che ti voglio fare è, mi sono chiesta a un certo punto, se i Florio fossero oggi, dove forse un po' meno è così marcata questa differenza uomo-donna, e le grandi proprietà Florio fossero state gestite da Giulia invece che da Ignaziddu, forse i Florio avrebbero fatto un'altra strada? Assolutamente, io di questo ne sono stata sempre molto convinta, perché questa figura, questa donna straordinaria emerge con una certa forza anche dalle pagine di un altro libro che è stato scritto praticamente da una delle discendenti, che è appunto una delle ultime appartenenti, anche se con cognome differente, alla casa dell'Ansa di Trabbia a cui Giulia apparteneva. Per chiarire rapidamente faccio un attimo un piccolo resume dei figli giusto per. Ignazio sposa Giovanna Dondes, questa coppia ha quattro figli, Vincenzo, Ignazio, Giulia e un altro Vincenzo. L'ultimo Vincenzo nasce parecchi anni dopo e viene chiamato così a sua volta Vincenzo perché il primo genito muore a 12 anni e quindi di fatto i figli rimangono tre. Giulia ha 15 anni, quindi Giulia ha il nome della nonna, viene fatta sposare a un nobile, un antico appartenente a una famiglia nobiliare di grandissima importanza in Sicilia, che sono appunto i Lanza di Trabbia. Lo sposo 27 anni, lei praticamente 15, che è anche un grande di vario di età. Il matrimonio avviene per uno scopo ben preciso perché i Lanza di Trabbia, che pure sono nobili, antichi, aristocratici, fantasmagorici, stupendi e meravigliosi, però hanno necessità di rimpinguare le casse, quindi si piegano un matrimonio borghese con una ragazza che viene di fatto istruita a diventare principessa Lanza di Trabbia nei due anni precedenti il matrimonio, quindi dai 13 anni e 15 anni, lei vive questa sorta di tirocinio per entrare nell'aristocrazia e per diventare principessa. Impara le lingue straniere, impara latino e il greco anche perché no, raffina moltissimo le sue maniere e soprattutto viene data, mi sposa da parte del padre e della madre con una dote molto molto ricca. Con questa dote e con un vincolo particolare che viene posto a questa dote, Giulia può permettersi di entrare a testa sfacciatamente alta a casa Lanza di Trabbia. Questo cosa significa? Significa che in pratica Lanza ricostruiscono il patrimonio, però lo ricostruiscono facendo in modo tale che questi beni vengano intestati anche a Giulia, quindi lei ha anche una proprietà immobiliare che rimane proprio per sé, ha una sua ricchezza e riesce a tutelare il suo stesso patrimonio. E se da una parte la suocera soprattutto, che veniva considerata un po' una lingua biforcura, non fa altro che rimarcare questo atteggiamento, rimarcare il fatto che lei era stata costretta ad ammettere una borghese in famiglia, dall'altra parte permette a Giulia di sviluppare un carattere estremamente coriaceo. Così a nota di colore, a nota di fatto, si può raccontare addirittura che uno dei primi pranzi che fu fatto in famiglia da parte di Lanza di Trabbia, la suocera stizzita per la presenza di questa ragazza di origine borghese, addirittura aveva dichiarato che si avrebbe proponito suicidarsi piuttosto che vederla a tavola, piuttosto che sapere che c'era una borghese alla sua tavola e che era stata costretta per il bene della famiglia. Anche questa ragazzina, perché alla fine aveva 15-16 anni quando avviene questo evento, si rivolge ai camerieri dicendo cortesemente aprite le finestre perché mia suocera desidera suicidarsi e non voglio che si rompano i vetri. Cioè questo è un fatto che venne raccontato, che fece un po' il giro di tutti i salotti di Palermo, ma per fare capire il tipo anche di autostima e di forza che aveva Giulia Lanza di Trabbia. E sicuramente se noi andiamo poi a cercare, alla fine ci sono anche delle donne che fanno parte di consigli di amministrazione, che sono figlie di amministratori più o meno felici, ce n'è qualcuno a Milano, voglio dire che è tutto oggi, addirittura questo è una cosa che mi fa quasi arrabbiare, che un po' mi colpisce, che su certi giornali esca il fatto che lei è l'amministratrice. Sì, lei è l'amministratrice non soltanto perché porta questo cognome, ma perché è dimostrato, a differenza dei fratelli, di essere molto più attenta, più abile, più lungimirante, più capace negli affari rispetto a quanto abbiano dimostrato ai fratelli stessi e senza essere neanche una donna di particolare fascino, voglio dire. Quindi Giulia per me è stata forse veramente la figura che ho sentito più vicina dal punto di vista proprio della temporalità, perché se è vero che Giovanna Dondes è fortemente una donna del suo tempo, quindi anche schiacciata in determinati meccanismi mentali che riguardano secondo me non solo la Sicilia, ma più che altro proprio quel periodo storico, quel modo di essere della donna declinato all'interno di una classe sociale, qual era quello dell'aristocrazia dell'Ottocento. Franca già fa un passo avanti perché Franca rappresenta davvero la donna che dichiara di essere se stessa al mondo, indipendentemente dall'appartenenza a una famiglia, cioè lei ha fortissima la coscienza dell'essere una Florio, ma sa anche di essere soprattutto franca di essere e di avere costruito nel tempo e negli anni un'idea proprio iconica di se stessa. Giulia è prima di tutto Giulia e lo è da subito. Lei è anche una Lanza di Trabbia, è a cuore, tutela gli interessi della famiglia, però noi la conosciamo e la vediamo come una figura che riesce a ritagliarsi anche a livello sociale, una sua autonomia rispetto al marito, il marito del marito di Pietro Lanza di Trabbia, alla fine si sa poco, sappiamo che era senatore del regno, sappiamo che era comunque una figura molto riservata rispetto a quella della moglie che invece faceva vita sociale, era molto attiva, soprattutto era poi quella che alla fine riuscirà a conservare, anche se per una manciata di anni, il nome dell'Ansa di Trabbia prima che si estingua a causa della fine degli eredi. Io non l'ho detto, ma ovviamente se avete delle domande mi piacerebbe che venissero fuori, perché adesso qualcuno ha alzato la mano e ha detto che ha già letto anche il secondo, ma non sentitevi, c'è un po' di distanza, dobbiamo usare le mascherine, ma ci piacerebbe anche se arrivano domande dal pubblico. Nel frattempo che loro pensano, c'è una persona che ti conosce, che è qui a Bologna, ma che oggi non è potuta essere qui, però mi ha detto, ma se vedi Stefania, falle questa domanda. A un certo punto tu, e metto due pezzettini, dentro c'è anche un pezzettino mio, all'inizio ho detto che è un romanzo storico dove dentro ci sono tantissime informazioni e tu ci hai spiegato come le hai raccolte, ma io ho apprezzato moltissimo anche, al di là appunto del dato storico, di tutto quello che tu ci hai raccontato, cioè nella descrizione dei pavimenti, la stanza di Franca è come averla vista, poi sono andata a cercarmela su internet, ma in effetti la descrizione che dai era vederla. E parli anche di libri, io è una cosa che amando i libri, quando leggo dei libri e vedo che i protagonisti leggono dei libri, tu metti in almeno tre punti, se non ricordo male, uno ricorda un Grazia dell'Edda che era appena uscito e che la mamma, credo di Franca, va a prendere sono a Venezia, probabilmente è quello il momento, poi ce ne sono altri due libri che tu citi e questa cosa mi piace, però mi sono incuriosa e ho detto ma chissà se Stefania ha scoperto veramente che nelle carte dei Florio Franca leggeva e aveva queste letture e invece la domanda dell'altra persona è tu a un certo punto parli di un profumo, che è la marescialla, giusto? Questo profumo che io ho conosciuto grazie ad un amico che è comune, che mi ha fatto provare e devo dire che lo trovo un profumo molto forte e leggendolo qui ho detto sì, questo probabilmente ricordandomi la Roma era un profumo da Franca a Florio. Sono appunto informazioni che hai, è la parte di fantasia. Mi sentite sì, parto proprio dal profumo perché la marescialla l'ho sentito pure io, abbiamo parlato con questa persona che immagino sia la stessa, del fatto che peraltro la marescialla è anche una citazione letteraria perché il profumo che usa Angelica nel Gattopardo ed è di una antica farmacia di Santa Maria Novella. Esatto, di cui io peraltro, faccio spoiler personale, io utilizzo l'essenza di garofano che è buonissima e che anche quella ritorna come sensazione in alcuni passi del romanzo. Mi piaceva proprio perché intanto è un profumo delle radici antiche, era un profumo tipicamente usato dalle donne, dalle siciliane dell'Ottocento, in realtà non soltanto dalle siciliane perché, ancora una volta, radice storica, molte delle figlie delle famiglie aristocratiche, comunque sia delle famiglie più ricche di Palermo, frequentavano dei collegi che c'erano a Firenze, soprattutto c'erano due che venivano frequentate un po' da tutte le figlie dell'alta nobiltà di tutta Italia, compresi ovviamente siciliani, quindi uno dei punti principali dove andare a fare shopping, perché sempre di ragazze si trattava quando si usciva in gruppo, era appunto la farmacia di Santa Maria Novella che ti forniva i profumi e che tu potevi quindi acquistare, conoscere e che diventavano una sorta di marchio di fabbrica, diventavano qualcosa di fortemente rappresentativo per chi le utilizzava. Da qui questa scelta che ci stava, Franca non frequenta questo tipo di collegi, Franca viene allevata, viene fatta studiare a casa, le cugine però che vengono presentate soprattutto nella scena del matrimonio invece studiano in questo collegio che tutt'oggi è un collegio, ora è misto, ragazzi e ragazze, ma all'epoca era un collegio femminile con un grande giardino, un collegio storico, peraltro veramente di grandissimo livello. Per quanto riguarda i libri, anche lì non ho trovato forti attestazioni del fatto che Franca fosse una forte lettrice, ma essendo io una lettrice mi è piaciuto immaginare che lei fosse fortemente consapevole di quello che leggeva, ma c'è anche da dire una cosa, Franca era una donna che, come si direbbe adesso con un'espressione magari non felicissima, però rende molta idea, Franca stava sul pezzo, cioè se essendo una donna di grande cultura, di grande capacità comunicativa, di estrema conoscenza di quelle che erano un po' le correnti di pensiero dell'epoca, aveva ovviamente il piacere anche di aggiornarsi, quindi è abbastanza probabile, anche se non ho trovato, nel senso che non ho trovato proprio i nomi delle sue letture, però che lei fosse comunque una lettrice che si teneva aggiornata, che conosceva le ultime novità, che frequentava scrittori e scrittrici, e con questo davvero mi fa deporre all'idea di lei che acquistava le ultime novità, che riceveva le copie autografate, è lo stesso di casi per esempio per le figlie, c'è un passo in cui una delle figlie legge il libro di Virginia Woolf, anche lì il fatto che loro fossero spesso a Roma, li metteva in contatto anche con testi stranieri, anche con un milio molto più ricco, molto più stimolante. ho immaginato che fosse possibile che Ijea, appunto la figlia, potesse leggere un libro che in realtà era uscito da pochi anni in Inghilterra e lo leggessi in inglese. Ci sono domande, nel frattempo ecco la signora, ecco arriva il microfono, grazie. Allora io vi chiedo Allora Anni le posso dire che c'è una mail specifica per una serie di motivi che ricordo bene, e che vede un primo abbozzo d'idea nel luglio, nella fine di luglio del 2015, è una sinossi vera e propria, completa e organizzata tra la fine di settembre e l'ottobre del 2015, quindi stiamo parlando di sei anni fa pieni. Ci sono state quindi sei anni, anzi cinque e mezzo in realtà. Le ore dipendevano in realtà molto dai momenti e molto dalle situazioni, perché di solito io scrivo la mattina presto un paio d'ore prima di andare a scuola. Poi devo dire che durante il periodo del lockdown queste due ore si sono trasformate in sei, cinque, sei, anche sette ore al giorno. Poi c'è il lavoro dell'editing che è altrettanto complesso e anche lì dipende molto dai momenti, perché comunque mi trovo a tenere insieme tante cose, una vita privata, un lavoro, l'attività della scrittura, volendo ogni tanto anche un po' di attività fisica, quindi tutto deve entrare in 24 ore, cerco di farci entrare tutto il più possibile al meglio. Ora, per esempio con la scuola, ho fatto la scelta di andare un po' in part-time, ma più che altro per avere non solo e non tanto tempo per la scrittura, ma anche per riuscire un attimo a tirare il fiato e non dimenticare che sono la pasta sul fuoco, il figlio da andare a prendere, perché è successo, tutte e due cose sono successe. Però, davvero, non riesco a immaginare una vita senza scrittura, questo ci tengo a dirlo. Il giorno che mi succederà di mettermi davanti al computer e di non avere piacere nella scrittura, la persona di cui sopra è avvisata, cioè io prendo e attacco e smetto, però finora, insomma, il piacere è visto anche a una altissima, elevatissima quota di insoddisfazione, perché non sempre le cose vengono subito come voglio io, ecco, quello c'è sempre. E qua, anche lì, un rimando, quel racconto ancora non è pronto, e c'è più insoddisfazione che felicità, però arriva. Aggiungo, io visto che parliamo di scrittura, Stefania scrive a mano o diretta sul computer? Allora, anche lì, diretta sul computer, soprattutto per sinossi, capitoli e bozzi, però mi capita spesso di avere con me o quaderni, casce di appunti, fogli, in cui mi ritrovo a scrivere, magari perché arriva lo spunto, arriva la frase, arriva l'idea, arriva l'istruzione, lo schema, il disegno, perché una cosa che faccio spesso, più prima devo dire la verità che non ora, forse perché adesso c'era molto più materiale fotografico, quindi potevo vedere, è proprio quello di disegnare, disegnare le stanze, disegnare le cose che vedo, gli oggetti, i vestiti, per me, proprio nei momenti di riposo, di pace, io queste cose le vedo, le metto da parte, non sono brava a disegnare però. Anche per la saga dei Florio hai degli... molto interessante questo. In realtà poca cosa, perché ripeto, avendo molto materiale fotografico, c'è stato poco bisogno di questo. Grazie per la domanda, eccone un'altra. Buonasera, allora, anzitutto volevo ringraziarla moltissimo per quello che è stato il primo libro che lei ha scritto, perché è stata sicuramente un'opera che per quanto mi riguarda è stata travolgente, grande scrittura, romanzo veramente ricco, intenso, per cui grazie, perché effettivamente non è scontato. Volevo chiedere come è cambiata la sua vita, al di là dell'aspetto pratico, quindi del fatto che ha meno tempo, volevo capire se si aspettava un successo così travolgente, perché se era già in cantiere il secondo libro, quando ha scritto il primo, e se è in cantiere un terzo libro. Io non ho ancora letto il secondo, per cui volevo un pochino capire se ci sarà anche un seguito. Grazie. Allora, inizio dalla fine, come al solito non ci sarà un terzo, perché posso. Allora, c'era stata, avevamo accarezzato l'idea del terzo, però abbiamo visto che sarebbe stato molto sbilanciato, nel senso che un secondo molto breve e un terzo molto più lungo, con il rischio di allungare troppo la coda, per cui magari si sono tagliate alcune cose, si è sistemato, si è impastato in maniera diverso alcuni altri passaggi, però siamo riusciti a fare un tomo che poi, se vuole, uno può anche utilizzare come fermaporta, voglio dire. Poi l'aspetto proprio pratico della scrittura, alla fine è quello del capire molto come risuona, anche se avessi tirato fuori i due volumi anziché l'uno, sarebbe stato davvero una sorta di peso, di ripetizione, per cui questa scelta è stata non tanto una scelta voluta, quanto piuttosto una scelta necessaria, proprio per l'economia stessa della storia, per come si muoveva. L'altra domanda me la sono dimenticata, perché ho il cervello di una pulce in questo momento veramente bollita. Comunque hai cambiato la tua vita e se ti aspettavi il grande successo? Allora, la mia vita è cambiata nella misura in cui ovviamente ci sono tutta una serie di impegni pubblici da rispettare, talvolta la vita privata un po' non risente, nel senso che magari devo ritagliare degli spazi per quelle che sono attività collaterali necessarie nel momento in cui tu pubblichi un libro e devi fare la promozione. Il successo poi ho, no, nel senso che nessuno quando fa qualcosa si può immaginare quello che succede. Cioè tu puoi desiderarlo, ma non puoi immaginare che andrà veramente così. È lo stesso discorso di chi magari, lo prendo anche lì come similitudine, perché è una cosa che mi appartiene e che mi piace molto. L'espressione che hanno i nuotatori dopo che si girano e vedono non tanto che sono arrivati i primi, perché magari si aspettano di arrivare i primi, ma che hanno fatto il record. E allora tu vedi queste facce sconvolte di sti ragazzi che guardano il timer e dicono c'è chi io, ecco. La sensazione è proprio questa, è la sensazione del chi io. Ed è una sensazione bellissima, però proprio come gli sportivi, tu sai che arriverà qualcun altro che ti supererà e che dovrai comunque lavorare per mantenere alto lo standard. Però non ti interessa, perché poi alla fine, ok, sei in vasca, ti fai le tue vasche e dici, ma sono stanca, non ce la faccio più, a metà dell'allenamento dice adesso io esco e mando tutti a quel paese. E però poi alla fine succede qualcosa per cui, vabbè, devo fare 50 vasche, senti, va, riesco a farne 55. Ne parlo del nuoto perché anche se non lo pratico più come prima, sono abbastanza appassionata. Quindi la sensazione è esattamente questa, dal momento di enorme stanchezza in cui tu proprio dici non ce la faccio più, al momento in cui non si sa perché, il corpo ti rilascia, l'endorfine tu cominci a nuotare, lo fai per il piacere di farlo. Ecco, per me la scrittura è questo. C'è un momento in cui io arrivo al libro, lo guardo, ho la nausea di quel file e dico ma chi me l'ha fatto fare di fare questa cosa? E poi però alla fine comincia a scrivere e poi va, cammina, 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 fino a che non ti arrivi a una sera di maggio, verso le 11 e telefoni alla tua editor in lacrime. La tua editor si spaventa perché dice ti è morto qualcuno a casa e no, io no, ho finito il libro. Ecco, succede questo ed è un fatto vero, possiamo testimoniarlo. Finale compianto, dichiarazione compianto liberatorio anche. Sì, ma per la serie è tipo, oh mio Dio, è finita, che poi non era finito perché poi gli abbiamo iniziato l'editing e lì ho pianto di nuovo, ma ho pianto di nuovo più che altro perché poi, qua apriamo una piccolissima parentesi, dovete sapere che la mia editor che è seduta qui per questo, guardo spesso da questa parte, editor e direttrice editoriale. Ha questa caratteristica, lei sa che io sono una persona anche molto insicura, molto fragile, quindi ogni tanto quando deve farmi degli appunti fa, senti funziona, però, quando arriva quel però o quel ma io già, oppure allora guarda, io il file l'ho letto, è pronto, ci sarà da lavorare. O ancora, c'è qualche nota a 400 note. Io ormai ho imparato a non avere più paura perché poi mi succede, e questo succede anche per altre occasioni, del tipo, hai scritto questa cosa ma non è degna di te, ho capito, riscrivo, va bene, perché comunque non è che la scrittura è un sacro fuoco che ti siedi al computer e viene fuori il capolavoro, wow, è meraviglia, no, ci deve essere appunto l'ostetrica, la maieutica, che ti dice, ti fa vedere che sì, ok, hai scritto, hai scritto, l'idea è buona, le frasi ci sono, però tutto insieme, ragazza mia, non funziona tanto, riscrivi, e allora a quel punto, la testolina va sul computer, rileggi, rileggi con l'occhio di chi non è affezionato, perché comunque, levando la battuta, tu sei legato alle tue parole, perché anche se non sono te stesso, hanno una certa, in una certa misura ti rappresentano, no? E a quel punto, guardandolo con occhi esterni, ti rileggi e dici, mi zica, ma fa veramente schifo, cioè succede, ecco, e a quel punto si lavora, si ricomincia. Si ricomincia. Dicevi prima appunto sei anni insieme ai Florio, ti ho sentito dire in altre situazioni che ti sei sentita un po' come adottata, o comunque tu hai adottato questa enorme famiglia, perché noi qui adesso abbiamo menzionato 4-5 personaggi, ma il libro è ricco, trasuda di cugini, parenti, amici, amiche, amanti, un'infinità. E quando ti ho sentito appunto dire che li hai sentiti un po', te li sei un po' adottati, per sei anni ho detto, ma chissà se ogni tanto Stefania, ti è capitato mai di chiamare magari qualcuno Ignaziddu invece che... No, no, questo no, grazie a Dio no, perché penso che a quel punto veramente... La stanza alla neuro era proprio lì, con i fiori, apparecchiata, col tavolo, il pezzo di antiquariato secondo me, e c'eravamo pronti. No, sono riuscita a non... A separare, diciamo. Però ogni tanto avevo la sensazione di avere qualcuno di loro dietro che mi faceva... Così no. Vedi che io non ho detto quella frase, per favore correggi perché non lo sopporto. Questo succedeva, succedeva ogni tanto ed era un pochino ogni tanto proprio mi girava dicevo ma ti fai fatti tuoi, mi fai lavorare. No, no, questo lo devi cambiare. Poi magari non lo cambiavo, succedeva una cosa strana che poi arrivava qualcuno che mi diceva, vedi che quella frase non funziona, magari perché la voglio in questo modo. E io dentro di me pensavo, porca miseria. Sì, forse era il personaggio che aveva preso possesso dell'editor, che aveva fatto da tramite. Tutti gli scrittori, non fatevi ingannare, tutti gli scrittori sono degli schizofrenici in potenza. Beh, se lo dice una scrittrice, ci dobbiamo solo credere. C'è qualche altra domanda? Ecco, due addirittura. Adesso è vicino al signore, facciamo prima il signore. Ciao Stefania. È un libro di personaggi, abbiamo parlato degli uomini e delle donne. All'interno del primo che del secondo. Ma secondo me… Ovi Palermo, Marsala, Farniana, io vengo da quei luoghi. Non ho chiesto, mi sono sempre fatto una domanda, sia leggendo il primo libro che il secondo. ma se io anzi di sbarcare di arrivare a palermo fossero arrivati in un'altra città ecco quali contorni avrebbe avuto la loro storia e se se uscire insomma dalla famiglia la meraviglia insomma che è uscito e poi il fallimento guarda qua siamo proprio nel piano del vuotif c'è proprio un filone letterario della sella della storia si fosse mossa in maniera differente non lo so probabilmente avrebbe avuto delle pieghe differenti magari avrebbero avuto successo ma magari non con le spezie avrebbero avuto un altro tipo di relazione personale magari ci sarebbero stati altri modi di arricchirsi ci sarebbe stata anche un altro tipo di capacità di relazionale imprenditoriale davvero questo non può saperlo nessuno penso con certezza che avrebbero sicuramente continuato a commerciare ad avere una una ricerca spasmodica nei confronti della non soltanto del semplice arricchimento fine a se stesso ma del riconoscimento sociale che secondo me rappresenta la cifra dominante delle prime generazioni fino appunto fino al senatore dopo anche l'impoverimento e poi la crisi e poi il tracollo sono legati non soltanto alle responsabilità dei singoli ma anche a tutta una serie di cambiamenti sociali politici soprattutto che si verificano che fanno sì che le quali le scarse qualità umane si coniughino a tutta una serie di aspetti familiari aspetti economici che sono loro sfavorevoli quindi magari il tracollo sarebbe avvenuto non sarebbe avvenuto magari in quelle modalità sarebbe avvenuto in maniera differente ma si sarebbe comunque verificato perché erano cambiati proprio i referenti politici e i referenti economici della famiglia quindi dico con i dovuti distingue secondo me in maniera magari marcatamente differente ma ci sarebbe stato comunque sempre questa parabola di ascesa e poi tra collo c'era il ragazzo con la maniera bianca io volevo intanto ringraziarla perché ho letto sia il primo che il secondo ed essendo di palermo mi ha fatto diciamo conoscere tantissime cose sulla mia città che non conoscevo quindi intanto la volevo ringraziare è però tre domande la prima perché ha scelto proprio il florio cioè se c'è un motivo se lo può dire poi diciamo qual è l'obiettivo con cui ha scritto questo libro e se dopo ormai due anni da quando ho scritto il primo penso di averlo raggiunto e il terzo se ha già dei programmi futuri se pensa di scrivere già di qualche altra epoca storica allora la prima domanda sicuramente avevo in testa anche un'altra famiglia però devo dire che la cosa che mi ha colpito dei florio per quella fine mi ha spinto a scrivere di loro è stato il fatto che da palermitano lo sai tutti parliamo di franca della torga del vino c'è un certo tipo di immaginario che sembra quasi congelato in delle fotografie in delle fotografie in cui dominante è il concetto di estrema ricchezza la domanda che mi sono fatta io da dove veniva questa ricchezza e andando al ritroso e risalendo mi sono trovata ad avere a che fare con delle figure straordinarie cioè il fatto stesso di essere degli immigrati che dalla calabria vengono a palermo per trovare la ricchezza cioè se uno ci pensa è davvero strano è davvero forte come concetto e io sono rimasta affascinata più ancora che dall'ultima generazione proprio dalla prima nel primo volume io ho messo proprio questa questo desiderio di questa fame che alla fine è davvero tipica di molti siciliani che vanno fuori loro non sono siciliani sono calabresi fanno appunto questo cammino inverso ma secondo me è davvero legato a chi vuole ottenere il riconoscimento delle proprie capacità e per me era importante raccontare anche questo e insieme qui rispondo alla seconda domanda c'è stata poi una delle motivazioni che mi ha portato a raccontare questa questa storia di cui mi sono resa conto soltanto nel momento in cui stavo terminando le titina del primo volume il raccontare un altro tipo di sicilia perché seppure oggi noi parliamo di una sicilia è differente che non è più quella legata all'immaginario della piovra di palermo milano sono andata dei delitti di mafia di toni sperandeo che un attore palermitano che ti dice la solita battuta passamo ferro che sarebbe passami la pistola ecco per moltissimi anni tutti gli anni 80 tutti gli anni 90 una parte anche una piccola parte del 2000 c'era l'idea del sicilia film di mafia sicilia narrazione mafiosa sicilia il siciliano di mario puzzo arriva benemerito meraviglioso grande sempre il maestro camilleri il maestro camilleri racconta un'altra storia racconta una sicilia fatta di sole in cui c'è sì c'è l'omicidio però c'è il piatto di pasta che rappresenta una cultura anche di tipo gastronomico c'è il racconto di personalità e di figure che si muovono con i gesti che esprimono la sicilianità non solo non tanto col mano a fare ma lo espirano proprio con il modo di essere le donne che camilleri descrive sono tanti tipi di donne che sono tutte perfettamente riconoscibili quando uno passa magari non per palermo perché una città molto grande ma per una città già più piccola tu davvero trovi la donna super sexy super affascinante che ha magari un passato un po più burrascoso trovi la madre di famiglia davanti alla porta che si sta pulendo il cortiletto trovi la signora c'è sempre una zia una parente una mamma una cugina che è bravissima a cucinare e che ti ritrovi nelle feste comandate 30 persone a casa con questa che frigge arancine arancine femmina ecco quindi ci tengo a precisarlo oppure ancora che cucina per tutti quindi lui racconta un tipo di sicilia che magari può sembrare elementare magari può sembrare stereotipata ma che ha moltissimi agganci con la realtà ed è una realtà in cui la mafia non è la patrona la protagonista non è la figura predominante quindi sommessamente perché io non sono camilleri e non mi paragonate a camilleri non mi paragonate a tomasi di lampedusa perché sono una formichina rispetto a queste persone qui si racconta quest'altro tipo di sicilia la mia volontà era quella di raccontare una sicilia con tutte le sue strutture con tutte le sue differenze con tutte le sue peculiarità ma che non ha a che fare necessariamente con la mafia c'è compare la mafia nel secondo volume e non è una mafia limitata è una mafia differente rispetto a quella che poi purtroppo abbiamo conosciuto negli anni 80 perché lì comunque c'era stato un vero e primo cambiamento di dna e di atteggiamento qui sarebbe un discorso anche di tipo storico e sociologico troppo lungo da fare ma quella era la mafia della campagna la mafia del protettorato un sistema che si accostava allo stato ma che non entrava in conflitto con lo stato a differenza invece di quanto accade con la mafia dei corleonesi che degli anni 80 e poi anche ripeto è peraltro è un terreno che non conosco benissimo quindi preferiscono addentrarmi in cose che non conosco alla perfezione e per quanto riguarda il futuro sì io voglio continuare a parlare della sicilia è autoreferenziale probabilmente sì ma tutti siamo autoreferenziali in un modello gli scrittori qualunque scrittore autoreferenziale e poi mi sono restato conto di una cosa è arrivato il grande successo io però sono 10 anni che scrivo e alla fine non c'è niente di più complicato ed è stato per me veramente un alzare l'asticella e continuano ad alzarla non c'è niente di più complicato che raccontare le storie del territorio in cui vivi perché non riesci mai ad essere del tutto distaccato lo puoi fare soltanto se tu sei in quel territorio ma non appartiene a quel territorio e credo di avere potuto raccontare certi aspetti di palermo con equanimità proprio perché non sono palermitana io alla città sono molto legata sono molto affezionata però proprio perché non sono palermitana mi posso permettere dire pregi e difetti perché chi è dentro non lo può fare così come pure ti dico con grande coscienza io da trapanese non mi sentirei di scrivere una storia su trapani perché non riuscire ad essere oggettiva perché io lo so come sono i trapanesi ma non riuscirei del tutto a dirlo perché mi riconosco anche io in questo mi sembra che abbia risposto a tutte e tre sì 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 bravissimo abbiamo qualche altra domanda sia una signora qui buonasera volevo chiederle a quale figura femminile del gloria si sente più vicina anche caratterialmente in realtà la figura femminile a cui mi sento più vicina non ce n'è proprio una che posso dire del tutto sono lei ci sono molti aspetti di me che ritrovo in giulia portalupi non tutti perché lei è una pazienza da santa io sono molto paziente ma quando la pazienza raggiunge il limite con me proprio c'è la lapide tombale di quelle da 10 tonnellate no in generale penso che di essere più vicina ai personaggi maschili che non a quelli femminili in realtà forse proprio perché faccio più fatica ad entrare nella testa di un uomo che sono quelli che mi sento maggiormente perché sono quelli su cui lavoro di più se abbiamo un'altra domanda se no allora chiedo anche ad arturo sì io farei proprio giusta la conclusione non abbiamo cioè non abbiamo parlato insomma un altro dei 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 temi che tu racconti perché i florio appunto sono sono stati lavoro sono stati nuove imprese sono stati anche coloro che hanno finanziato il per esempio la costruzione del teatro massimo di palermo hanno fatto cultura e la parte in cui tu nel secondo romanzo racconti di questi puccini d'annunzio laduse che frequentano le case dei florio sono un'altra boccata d'aria per me sono stata sono stati questo mi è piaciuto moltissimo il punto in cui tu narri riporti di questa cena dopo dopo spettacolo a casa a casa dei florio con laduse e d'annunzio che molto apprezza la bellezza di franca florio c'è questo ignazio molto stizzito da questa molto geloso lui che e le parole che fai dire alla duse le ho trovate anche quelle un altro un po come quelle di giulia io ho scritto e la seconda è la seconda quando quando giulia c'è questa confessione non faccio spoiler però quando c'è questo momento appunto come dicevo prima di boccata d'aria tra giulia e franca per me li ho scritto nasce franca florio quello è il momento quello scambio tra cognate è il momento in cui franca capisce che direzione deve prendere cioè deve trovare la sua dimensione quando c'è quella cena con laduse che dice quelle parole che poi vi 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 lascio andare a cercare ho pensato ecco questa è la seconda o è l'affermazione la conferma della di quello che deve essere franca cioè questa autonomia questo bastarti a te stessa non essere necessariamente il bello oggetto che il marito famoso importante deve portare deve portare in giro e questa affermazione della persona e ripeto sentendo tutto che fino all'ultima l'ultima riga proprio ignazid stava qua e poi per natura è l'ultimo dei florio che sopravvive cioè muoiono praticamente tutti lui c'è e e quando c'è questa scena finale che andate a vederla dove confesso io pianto due volte in questo libro quella è una delle due e ho capito che in fondo forse ignaziddu aveva proprio bisogno di quello non ha mai capito chi era mi ha dato questa impressione e avere la conferma da un da una terza persona che in quel momento era per lui perfetto sconosciuto e che gli fa capire che cos'era ho pensato vedi la persona siamo persone intorno alla circolarità dell'inizio siamo persone e a volte non ci troviamo e abbiamo bisogno che qualcuno da fuori anche se è un perfetto sconosciuto che abbiamo visto chissà mille anni fa ci diceva guarda che tu e e lì lui dice sì io sono questo l'ha capito tardi probabilmente però non ha capito una parola lo voglio spendere proprio su questa sulla scrittura di questa cena che è stata per meno delle prove più complicata perché intanto dal punto di vista tecnico descrivere e fare agire sulla scena così tanti personaggi che dialogano tra di loro cercando di come dire di non fare confondere al lettore perché il lettore deve sempre avere ben chiaro chi dice cosa per me è stata veramente un momento di grande messa alla prova per me stessa ma soprattutto in quella scena c'è proprio si nota la grande differenza tra gli uomini e le donne perché se da una parte abbiamo ignazio abbiamo romualdo anche lo stesso d'annunzio che hanno un approccio particolare dall'altra parte ci sono le donne che proprio come se dicessero sì ok voi siete lì a fare i bambini che giocano con le bambole noi siamo andati avanti la stessa dusa che è un certo tipo di racconto ha raccontato ha parlato di lei come una donna persa per denunzio credetemi era perfettamente al contrario c'era lei che era molto più forte era molto più cavardi e più attenta rispetto a lui giulia trigona che poi farà magari una fine la fine purtroppo che farà però giulia trigona è un'altra che è comunque molto protagonista della sua vita del suo tempo della sua storia e franca franca stessa si rende conto che fondamentale dice comunque se noi dobbiamo mantenere in piedi un legame e questo legame deve avere una forma non deve assolutamente prescindere dal rispetto che tu mi devi nei miei riguardi quindi laddove tu comunque decide di avere le tue relazioni decide di fare una vita che sia separata comunque non mancarmi di rispetto perché io ho il diritto ad avere il rispetto in quanto persona e questo non lo può dire solamente perché c'è stata alla base questa famosa chiacchierata con la cognata e sono le donne di questo libro sì ci tengo a dirlo sono tutte donne che sono più avanti sono donne del loro tempo ma proprio perché sono le donne del loro tempo sanno perfettamente quali sono gli strumenti e cosa possono e cosa non possono fare e quindi sono molto più lucide degli uomini che pensano di avere a disposizione tutta la vita e tutto il tempo salvo che poi si ritrovano appunto gli uomini con un pugno di mosca è vero è vero da quel punto di vista i personaggi fomini sono molto attuali io ho rivisto in alcuni passaggi di queste donne molte persone che conosco di amiche parenti anche donne che si ritrovano in questi amori persi è molto attuale sì devo dire che nonostante siamo un centinaio di anni indietro sì basta direi che lascio stefania a voi che adesso andrà nel tavolo qui di fianco per il firmacopie la ringrazio grazie 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 a tutti